Con un semplice no, noi diamo un bel ciaone al dittatore cari amici, l'orribile dittatore che sta svendendo l'Italia, sta svendendo l'Italia alle multinazionali. Per fortuna che adesso noi del popolo sovrano a ottobre o a novembre con un semplice no, noi del popolo sovrano lo possiamo sfrattare da Palazzo Figi il dittatore, il dittatore Renzi, il dittatore il dittatore cari amici, basta un no per sfrattarlo da Palazzo Figi, basta un no, basta un no perché stamattina su Facebook ho ricevuto un link che mi ha portato su un profilo Facebook dove c'è scritto proprio così che finalmente a ottobre il popolo sovrano con un semplice no lo può cacciare via il dittatore, non c'è bisogno di fare le rivoluzioni armate con i problemi saranno tutti risolti, tutti risolti e i nostri figli prenderanno dei bei voti a scuola la banca ci farà un mutuo particolare per l'appartamentino, capito? nostra moglie non ci metterà più le corna e le bollette caleranno sensibilmente e troveremo subito un posto di lavoro e pure i terremoti non ci saranno più e come farà il popolo sovrano a cacciare via il dittatore ma basterà che in ottobre o in novembre al referendum costituzionale il popolo sovrano nella scheda elettorale nel segreto dell'urna scriva no, no e così il popolo sovrano a Renzi, al dittatore Renzi lo sfratta da Palazzo Figi, lo mandiamo a casa lo mandiamo, Dio quanto è facile, quanto è facile mandare a casa i dittatori, niente più rivoluzione, sparcimento di sangue, con un semplice no, noi lo mandiamo a casa al dittatore e poi tutti i nostri problemi saranno superati, soprattutto saranno i nostri figli che torneranno ad avere dei bei voti a scuola perché è colpa del dittatore Renzi e se i nostri figli a scuola vanno male e nostra moglie tornerà a fare l'amore volentieri con noi a letto, tutta colpa di Renzi e di Renzi e se nostra moglie non vuol più fare l'amore e noi abbiamo dei brutti sospetti su di lei, terribile, terribile, ecco cari amici come è semplice sbarazzarsi dei dittatori, Renzi e Renzi e Renzi e il dittatore, basta o no basta capito, basta o no puoi cacciare il dittatore, beh comunque io vi dico queste cose però in pratica io sto copiando da quello che ho trovato scritto su un profilo facebook, su questo profilo facebook l'autore l'autore di questo profilo facebook le cose le anticipate io le sto soltanto copiando capito? le sto soltanto copiando, le sto soltanto copiando, un ciaone, un bel ciaone, vabbè cari amici io sono qua e sempre qua al bar dei cinesi di Vorta Mantovana, sono le 6 del mattino e presto questo video farà il suo percorso sul web 2.0, io che bello che bello che lo sfrattiamo il dittatore, a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni